Martina, sei esitita? Martina, sei esitita? No, perché non ci sono buscate? Martina, Martina! Sì! hai sei hai 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 Sì, non è vero. Expectation Versus reality no 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 wow so Sì, 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 sì. Sì, è un po' di più, è un po' di più, è un po' di più. No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Grazie a tutti.